Cultura e tempo libero Ormai consueto concorso fotografico Coop Dal titolo Fermati e Scatta Tantissimi partecipanti Oltre 2000 Che hanno rappresentato con i loro scatti Velocità e lentezza nel nostro tempo Tra questi 23 sono stati premiati Alla presenza del maestro Gianni Berengo Gardin Presidente della giuria E' ora in corso la quarta edizione A cui tutti i soci possono partecipare Grazie a tutti